Quando cigolano i cardini di stanze senza porte, e suoni strani e terrificanti riecheggiano per le sale, quando le fiamme delle candele tremano dove l'aria è in moto, quella è l'ora in cui arrivano i fantasmi, seminando il terrore con malvagio piacere. Via! Torna indietro finché puoi! Vattene! Vattene! Troppo tardi! Troppo tardi! Chi il mio incantesimo ha osato spezzare? Senza un indietro, guai ad entrare! Oh! E così tu pensavi di potertene andare? Ora che sei entrato, qui ti tocca restare e vengascagliati da creature d'orrore, in luoghi di pena, sofferenza e dolore! Ricadi e ricadi, precipita, vai! Grida che gli spiriti ti sentano persa nei guai! Benvenuti, sciocchi mortali, alla casa dei fantasmi! Io sarò il vostro ospite, il vostro ospite fantasma! Indietro non si torna! Il nostro viaggio inizia qui, in questa galleria di ritratti di alcuni dei nostri ospiti. Questo era l'aspetto della loro fragile forma mortale. È la stanza che si sta allungando? O è solo uno scherzo della mente? Potremmo anche fare a modo mio. Troviamo questo rifugio spettrale deliziosamente insopportabile. Ogni stanza procura spaventi da un muro all'altro e privi di freddi e caldi. Shhh! Ascolta. Abbiamo 999 spettri felici qui, ma c'è spazio per mille. Ci sono volontari? Cerca di fare come il quadrante dell'orologio. Il tempo vola quando ci si diverte, non è vero? Sì, non è vero. Ci auguriamo che ti trovi bene fra le cadenti rovine del mondo degli spiriti. oserai prendere ciò che non ti appartiene? Oh, non volevo spaventarti già così tanto. Questi spettri morivano dalla voglia di incontrarti. Lui poi non stava più nella pelle. Hai qualche problema a passare? Per attraversare un corridoio senza fine ci vuole un'eternità. Ha 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 ha! Ma potresti trovare il modo. Raggiungi il grande saluto. Ci stiamo radunando per una veglia danzante. E non vorrai far tardi proprio alla tua festa, ti pare? Gli allegri fantasmi hanno percepito le tue amichevoli vibrazioni e iniziano a materializzarsi. Vai attenzione. Lui spiriti siamo terribilmente sensibili alle luci intense. Ricorda, niente lungo. Luci intense, grazie. Nelle case dei fantasmi, le buone maniere sono d'obbligo. Prendi una decisione. Non puoi scegliere entrambe. E non puoi nemmeno restare qui. Non puoi nemmeno restare qui nemmeno restare qui nemmeno restare qui nemmeno restare qui. Non puoi nemmeno restare qui nemmeno restare qui nemmeno restanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voi, stolti intrusi, in trappola dannati, con voi i nostri spettri saranno spietati. Gnomi e folletti vengono qui dal sostizio. Svegliano gli spiriti del cupo ospizio! Voi, stolti intrusi, in trappola dannati! Con voi i nostri spettri sa... Voi, stolti intrusi, in trappola dannati. Voi, stolti intrusi. Voi, stolti intrusi, in trappola dannati. Lo... volei... felici e contenti, in sempre eterno. Voi, stolti intrusi. Voi, stolti intrusi. Voi, stolti intrusi. La sposa... Voi, stolti intrusi. Voi, stolti intrusi. Voi, stolti intrusi. Voi, stolti intrusi. Oh, eccoti. Appena in tempo. Ho dimenticato di dirti una cosenza. Ci sono dei fantasmi che ti hanno seguito. Ti hanno scelto come millesimo fantasma. E ti perseguiteranno finché non tornerai. Allora, Clay. Bacchus, professore. Chi. Li. Chi. 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 Ehi, aspetta! Non ti innervosire Non c'è niente da temere Sono soltanto un fantasma Tempo fa sono stato colpito da una cannonata E da allora non sono più lo stesso Beh, comunque è inutile perdersi in chiacchiere Dobbiamo fermare quel treno Quella vecchia locomotiva Corre su queste rotaie fin dal terremoto di Big Thunder Bisogna fermarla Altrimenti qui non si viverà mai pace Forza, vamos! Usa quel vagonetto E ferma quel treno fantasma Urra! È fatta! C'è uno scambio! Uh, ci han mancato poco Dai, spingi il detonatore Yee-hah! Urra! È basta! Un detonatore! Fate! C'è uno scambio! Solta! Però niente male! Forza, dacci dentro! Beh, le capre non sono moltissime, fortuna che questa avrei superata! Un po' di questa parte! Attenzione! Sosse piante spinose laggiù! Presto, più veloce! Ottimo lavoro per una persona in carne e ossa! Più veloce! Ancora, dai, ancora! Oh! Oh! Bene! Devi raggiungere il motore per fermare questo treno! Però niente male! Preparati! Giù! I pistralli! Però niente male! Boh! Vedo un detonatore laggiù! Però niente male! Un detonatore! Raggiungi il motore, altrimenti il treno non si fermerà mai! Attenzione! Queste caverne sono pericolose! Dai, spingi il detonatore! Modrepar, modre che pistralli! Abbassati! Attenzione! Presto! Perdiamo il treno prima che sia troppo tardi! Attenzione al motore! Scotta! E andiamo! Bene! Ce l'hai fatta! Hai fermato il treno fantasma! Woohoo! Ti ringrazio! Oh, che pace! Non lo senti anche tu? Il suono del silenzio? Oh! Che diavolo è stato? Accidentaccio! Se fossi ancora vivo, sarei morto di paura! Ora! Oh, che dievolo! Ho! Oh, che dievolo in sufficiente! Ho! 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 Ho!